Il Vinitaly, che peraltro inverte una tendenza rispetto ad altre manifestazioni che si sono avute in questo periodo e che hanno registrato un calo che naturalmente fa riferimento alla situazione di crisi economica che da diversi anni viviamo, la 45esima edizione del Vinitaly è straordinariamente un successo e all'interno di questo successo, che è di grande ospicio anche per la ripresa, è straordinario il successo che consegue il vino marchigiano. Il nostro stand è visitatissimo, molti dei nostri produttori conseguono riconoscimenti, c'è grande attenzione ed è quello che la Regione Marche auspica. L'abbiamo detto tutti, molte volte questa crisi si può battere con la qualità, con l'impegno, con la determinazione degli imprenditori, in questo settore specifico e in questa occasione abbiamo dato una grande prova di che cosa è la Regione Marche.